Prima tappa casertana per la campagna elettorale per presentare la lista Caldoro, una lista che in questo territorio ha sempre avuto un buon risultato con il nuovo PSI con Massimo Grimaldi. Si attende anche questa volta un risultato entusiasmante, insomma che sensazioni ha? Io da Caserta in terra di lavoro vengo da sempre, ho visto che qualche candidato oggi si viene per la prima volta, diciamo quanto è importante, quanto è bello, invece io la frequento da sempre, ho qui tante iniziative politiche, una storia lunghissima, ho iniziato in tutti i comuni, è stato il mio collegio elettorale, quindi conosco Caserta, il casertano è terra dei lavori, tutta la sua bellezza, la straordinaria forza. Quindi abbiamo investito in questi anni, molto anche di fronte alla crisi economica durissima, grandi progetti, grandi investimenti, ma soprattutto dobbiamo guardare al futuro e quindi l'asse di collegamento verso Roma è fondamentale, per creare occupazione, lavoro e sviluppo. E' il nostro impegno, un impegno di serietà, quello che viene in una conoscenza del territorio ormai di tanti anni, quindi sono assolutamente fiducioso che le nostre ragioni, le cose che diciamo funzionano e avranno ancora una volta la fiducia dei cittadini di terra dei lavori. All'ultimo minuto c'è stato lo strappo con l'Udc, si dice che sia stata una decisione presa a Nusco, lei si aspettava che Demita voltasse le spalle? E per chi? Che è successo? Io l'ho limitata oggi a una battuta, quando mi è stato chiesto ho detto, ma l'ho preso con ironia, alle vecchie bande preferiamo e preferisco la banda larga, da una parte c'è il vecchio, il passato, noi guardiamo in avanti, guardiamo al futuro, non possiamo fermarci alle vecchie esperienze politiche, alla vecchia politica, ai vecchi metodi della politica, agli accordi che si fanno nelle stanze oscure, hanno fatto un accordo di Luca e di Mita in una notte in una stanza del comune di Marano, si sono chiusi in una stanza in periferia, hanno deciso la loro alleanza, non si fa così, le afferanze si fanno in maniera trasparente di fronte ai cittadini, dicendo voglio fare questo, voglio lavorare per questi obiettivi, ecco, loro sono il passato, il vecchio, noi siamo il cambiamento e il futuro. Ma in sostanza qual è stato il punto politico per cui, insomma, tra lei e l'Udc, che pure è stato un alleato in questa legislatura, non si è trovato l'accordo? No, intanto chiarirei, non c'è il problema dell'Udc, i centristi stanno con noi, ormai il nuovo centrodestra è il centro, non più l'Udc, quindi l'Udc è Demita, con tutto il rispetto, la storia politica di Demita, ma non c'è il più l'Udc, l'Udc è Demita, è Ciliaco Demita, con la sua storia, la sua coerenza, il suo impegno soprattutto ad Avellino, e quindi è chiaro. Dall'altra parte invece il mondo di centro, come è noto, basta guardare la realtà regionale per vedere che tutti i consiglieri regionali, i consiglieri comunali, tutta la realtà, soprattutto dei tanti cittadini che hanno votato il centro, oggi votano l'alleanza popolare, quindi tutta la parte che riguarda Campania Popolare, tutta la parte che riguarda il centro vero, che sta con noi, ed è quella la vera forza di centro, insieme a Forza Italia. Lei prima ricordava alcuni punti raggiunti dalla sua maggioranza, eppure De Luca dice che lei in questi anni non si è neanche accorto di essere presidente della regione Campania. Ma guardi, noi siamo primi, De Luca, Bassolino ci hanno lasciato ultimi, noi abbiamo scalato la classifica, loro sono esperti di ultimo posto, noi siamo diventati ora primi in tante performanze italiane, le altre regioni scendono più di noi, l'Italia scende, sia ben chiaro, la crisi è italiana, tutte le famiglie italiane hanno qualcosa in meno. Noi come Campania abbiamo resistito meglio rispetto agli ultimi posti che ci ricordiamo di quella vecchia politica a cui facevo riferimento prima, quella del passato, che sta per fortuna a nostre spalle, quella dei rifiuti, vi ricordate la stagione dei rifiuti fino al quarto piano, lo sfascio della sanità, la chiusura degli ospedali? Sperali, questo è il passato che viene rappresentato da De Luca e da tutti quelli che con De Luca hanno amministrato i dieci anni più bui della nostra regione, che sono il 2000-2010, ecco, di quelli dobbiamo avere paura, di quegli anni, quindi dobbiamo guardare al futuro, abbiamo sistemato le cose, abbiamo rafforzato le fondamenta, oggi dobbiamo chiaramente costruire un palazzo più bello, dobbiamo costruire degli interni più luminosi e questo possiamo farlo solo noi, non certo il vecchio. Nel PD si è scatenato un forte dibattito sulle liste collegate a De Luca, sia sotto il profilo politico che per alcune vicende giudiziarie che riguardano alcuni candidati, lei su questo che giudizio dà? No, no, non entro nelle questioni degli altri partiti, poi ci stanno, le liste sono tutte pubblicate, quindi avrete modo come giornalisti, opinione pubblica di dire, di commentare, di scegliere di non votare, quindi questa è la democrazia. Non voglio dare giudizi sui argomenti che credo che debbano essere affidati ora, una volta che le liste sono pubblicate, questo discorso si poteva fare prima di scegliere, oggi che si è scelto devono giudicare i cittadini, l'opinione pubblica, anche con severità, devo dire anche con durezza, quando ci sono argomenti per farlo, quindi la trasparenza è questa, la democrazia è questa.